Giappone, Naraa, può essere di nuovo abitata e il livello di radioattività non è più pericoloso. È il primo ordine a riguardare una delle località totalmente evacuate dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima. Non è ancora chiaro in quanti torneranno, secondo i media giapponesi potrebbe farlo soltanto il 10% dei circa 7000 abitanti.